ciao io sono carla borgioli sono del reparto ortofrutta e lavoro alla coppe di empoli ovest sono andrea madiai e sono consigliere della sezione soci di scandici io sono desa barsacchi lavoro a box informazione negozio di empoli ovest allora il concetto di condivisione più che altro io l'ho imparato da quando lavoro alla coppia perché fino allora cioè era un concerto un po astratto mi hanno insegnato veramente i valori di lavorare tutti insieme raggiungere tutti insieme questo obiettivo e essere uniti su questo e quindi la condivisione la vedo soprattutto a livello lavorativo ma vorrei condividere la socialità essere diciamo tutti più socievoli più sociali diciamo sì stare insieme e condividere tutto quello che c'è da condividere cioè qualsiasi aspetto della vita della società quando c'è tanto impegno di tutti il risultato è ottimale e c'è soddisfazione sia che sia sul lavoro sia che sia per la famiglia per i figli sia per un risultato scolastico sia per un risultato a fine orario di lavoro a fine stagione grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti